Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians. Io sono Splash ed eccomi tornato per analizzare lo streaming di ieri da parte di Massive Entertainment per quanto riguarda ovviamente Tom Clancy's The Division. Primo punto focale, la patch 1.1 arriverà il 12 aprile, proprio così lo stesso giorno dell'update gratuito di Destiny di cui tra l'altro trovate il recap degli streaming di Bungie qui sul canale. La patch quindi uscirà il 12 aprile e come tutti immagino saprete introdurrà la prima incursione del gioco chiamata The Falcon Lost. Gli sviluppatori hanno detto che l'incursione sarà molto più complessa e difficile rispetto alle normali missioni anche rispetto a quelle in modalità molto difficile e anche questa sarà effettuabile in modalità difficile con nemici di livello 31 e in modalità molto difficile con nemici di livello 32. Come in tutte le altre missioni del gioco ci sarà il matchmaking ma è naturalmente consigliabile giocarla da subito con un team preparato con cui si è già in sintonia con cui potremo sempre comunicare e con build adatte ad un ruolo specifico, consiglio degli stessi sviluppatori. Ed oltre a questo un altro consiglio dei Massive è quello di avere un equipaggiamento adeguato quindi di avere tutti gli equipaggiamenti di livello 31 altrimenti sarà molto difficile terminare l'incursione che tra l'altro non avrà checkpoint ma dovrà essere terminata tutta ad un fiato e questo permettetemi di dire che a parer mio è una scelta molto discutibile ma avremo modo di parlarne anche in altri video. L'incursione sarà molto più difficile rispetto alle normali missioni come è normale che sia. Saranno introdotti dei nuovi nemici e sconfiggere i boss sarà molto più complesso rispetto a quello che è stato finora probabilmente ci saranno dei metodi specifici per poterli tirare giù quindi non sarà un semplice spariamo tutto quello che abbiamo addosso al nemico e ciao. Una scelta azzeccata che ci è stata comunicata all'interno dello streaming è quella di poterci permettere di fare il ride quante volte vogliamo a settimana. Per la nostra prima volta settimanale ci varrà dato un drop aggiuntivo che dovrebbe essere ovviamente migliore rispetto a tutti gli altri mentre per le successive volte avremo comunque dei drop quindi davvero ottimo secondo me. Tra l'altro con questo aggiornamento verranno anche introdotti gli scambi di oggetti tra i giocatori se ad esempio in una missione nel ride o in qualsiasi altra occasione troviamo un'arma che magari abbiamo già e che quindi non ci interessa oppure altro equipaggiamento eccetera avremo un massimo di due ore dall'ottenimento per poterla lasciare a terra condividendo quindi questo drop con i membri della squadra nel momento in cui abbiamo ottenuto quel drop solo ed esclusivamente e lo sottolineo solo ed esclusivamente con loro. In più a quanto pare verranno anche introdotte nuove armi di alta gamma che non vedo l'ora di vedere e provare ovviamente. Questo funzionamento dello scambio di oggetti comunque sarà utilizzabile anche all'interno della zona nera ma sarà leggermente diverso in quanto tutto ciò potrà essere fatto solo ed esclusivamente nelle stanze sicure quindi posti di blocco per entrare nell'aria ma esumo anche nelle stanze dei venditori in giro per la mappa. Verranno introdotti anche gli arset di set di armature che avranno queste icone verde acido diciamo così comunque vedete è un verde diverso dagli equipaggiamenti che già abbiamo a disposizione. Se equipaggeremo quattro più armature di questi set ci verranno dati dei talenti specifici incentrati ad esempio sulle armi da fuoco sulle parti elettroniche eccetera. Questo ovviamente lo vedremo per bene una volta uscita la patch quindi vedremo poi in altri video il loro funzionamento specifico. Questi equipaggiamenti comunque non potranno essere droppati solo nell'incursione infatti dovrebbe esserci un set composto da progetti quindi completamente craftabile ed uno della zona nera ad esempio quindi vedremo un po' quanti ne saranno messi a disposizione. Tra l'altro ogni singolo pezzo di equipaggiamento dal 12 aprile in poi avrà uno score così rinominato che poi ci darà un punteggio fatto tra la media di tutti i nostri equipaggiamenti in modo da avere una sorta di numero quantificabile che ci indicherà bene o male la nostra forza la nostra potenza. Ora parliamo di zona nera perché ci sarà una novità importante al suo interno infatti verranno introdotti i supply drops una sorta di evento pubblico dove ad ogni ora in un punto casuale della mappa verrà rilasciata una cassa di approvvigionamenti che darà dei droppi migliori rispetto al solito e che potrà ottenere solo la prima squadra che arriverà ad aprire questa cassa. Inoltre gli oggetti al suo interno non dovranno nemmeno essere estratti poi successivamente perché di fatto non saranno oggetti contaminati. Che dire mi sembra davvero un'ottima idea che sicuramente creerà degli scontri all'ultimo sangue nella zona nera davvero fantastico. Per concludere nel gioco verranno anche introdotte delle specie di taglie settimanali che ci chiederanno ad esempio di uccidere non so 10 nemici di una certa tipologia o cose di questo genere. Ovviamente sarà importante portarle a termine perché ci verranno date delle ricompense come ad esempio dell'equipaggiamento della divisione o dei crediti phoenix. In poche parole avremo un altro modo per farmare questi oggetti davvero utilissimi all'interno del gioco. Bene ragazzi io con questo ho concluso spero che vi sia stato utile ci saranno davvero tantissime novità all'interno dell'aggiornamento del 12 aprile per the division ovviamente qui sotto nei commenti fateci sapere voi cosa ne pensate di questa patch che uscirà prossimamente. Mi raccomando qui sotto in descrizione vi lascio tutti i contatti ai nostri social network iscrivetevi al canale lasciate un mi piace a questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti agenti, enjoy!